Buongiorno e ben ritrovati per questa puntata di 7 in punto che dedichiamo alle malattie rare. Qui con me c'è Anna Baschirotto che fa parte dell'associazione Mauro Baschirotto contro le malattie rare e anche Beard Foundation che ringrazio di essere con noi. Buongiorno e di essere tornata soprattutto con noi. L'abbiamo chiamata perché ci sono buone notizie da raccontare e anche notizie preoccupanti purtroppo da dare in relazione a quello che accade nel mondo delle malattie rare. Sapete che è difficilissimo arrivare a dei risultati perché è difficilissimo fare ricerca in un ambito che spesso è abbandonato anche dallo Stato. Però dopo tanti anni di impegno e di lavoro la fondazione Beard e l'associazione Mauro Baschirotto sono riusciti a portare una fiacola di speranza per una malattia molto severa di cui abbiamo parlato anche qui a 7 in punto varie volte. Ci sono delle notizie buone che si chiama Lash Nayan. Ci sono delle notizie buone? Certamente. Sono delle notizie che vengono dalla nostra ricerca che dura già da qualche anno come sappiamo e siamo riusciti, il nostro team di ricerca è riuscito a correggere in vitro il difetto enzimatico che provoca la malattia. Con grandissimo entusiasmo perché si tratta di un risultato sicuramente parziale e iniziale ma importantissimo che è la condizia sine qua non per poter proseguire poi con una vera e propria terapia di questa malattia con nuove ricerche ovviamente che partono proprio da questo risultato. Tra l'altro qui abbiamo anche l'articolo che è stato appena pubblicato e che riguarda proprio questa cosa che ci ha raccontato. Questo si traduce in una speranza concreta per bambini perché sono bambini che sono colpiti da questa malattia, ragazzini insomma sostanzialmente che non hanno speranze. Non hanno alcuna speranza ora perché è una malattia terribile, ne abbiamo già parlato altre volte, sono bambini e ragazzi che hanno problemi renali che però sono anche non autosufficienti e non deambulano, quindi sono in sedia a rotelle. Poi l'aspetto più terribile è quello neurologico perché la malattia induce il malato a farsi male, a mordersi, a mutilarsi ed avere un comportamento autoaggressivo verso se stesso ed è proprio riconosciuto come comportamento leoshinaian. Da qui si parte con una speranza positiva insomma. Certamente, noi siamo fiduciosi che si possa andare avanti per questa malattia e che si possa trovare una cura proprio per questi sintomi neurologici che sono i peggiori, sono veramente terribili in questi ragazzi per loro stessi e per la famiglia. E' vero perché anche la nostra redazione tante volte ha parlato di questa malattia di cui l'associazione Mauro Maschirotto e la fondazione BIRD fanno appunto di riferimento per tutta Italia portando anche il professor Nayan qui a Longare nel centro dove operano appunto per visitare i pazienti, per incontrarli. Sono dei ragazzini dolcissimi che tra l'altro sono particolarmente intelligenti e sensibili come tutte le persone che hanno una vita molto difficile e la cosa che a me ha inquietato di più è proprio il fatto che questi ragazzini capiscono quando gli sta per arrivare questa crisi il momento in cui stanno per farsi del male e chiedono aiuto. Chiedono aiuto prima di farsi male perché sono presenti, loro comprendono perfettamente come si diceva e diciamo chiedono aiuto proprio contro questo impulso, contro questa compulsione all'autolesionismo. Questo aiuto avviene anche legando le mani, legando la sedia a rotella in modo che non portino per esempio le dita alla bocca e poi quando è passato il momento di crisi loro stessi se ne accorgono, chiedono di essere slegati ma è una cosa che fa soffrire prima di loro stessi. Certamente, vedere un ragazzino legato che chiede di essere legato, potete immaginare l'impressione che può provocare. Io mi auguro che questa ricerca possa proseguire, possa portare dei buoni risultati, iniziamo da una notizia positiva per parlare però anche di un aspetto che non è tanto gradevole, soprattutto sotto Natale, perché al 31 dicembre scade la concessione che la regione dà al centro di riferimento appunto Vicentino per le malattie rare, Fondazione Beard, per alcuni tipi di funzioni che svolge anche a favore non solo dei malati rari ma anche del territorio e questa notizia ovviamente vi mette in angoscia. Sì, noi abbiamo lavorato bene per 11 anni con la regione, con una convenzione sperimentale che ha dato pieni risultati e grande successo nell'ambito della ricerca ma anche nell'innovazione diciamo dal punto di vista diagnostico molecolare. A fronte di questi 11 anni chiaramente di progetto sperimentale che avrebbe dovuto essere poi confermato e quindi con l'implementazione definitiva nel sistema sanitario nazionale della nostra realtà, invece abbiamo avuto da un anno e mezzo a questa parte un continuo susseguirsi di tentativi di chiudere la convenzione da parte della regione Veneto, sono tentativi a cui abbiamo ovviamente ricorso e siamo tuttora in dialogo con la regione per vedere diciamo non chiusa questa nostra convenzione ma valutata, valutata la sperimentazione e poi implementato il nostro modello nel sistema sanitario perché crediamo di aver detto qualcosa di molto nuovo nell'ambito delle malattie rare. Il fatto che questa convenzione non venga rinnovata o che questa cosa non venga trasportata da sperimentale a diciamo una cosa che rientra all'interno del nostro sistema sanitario Veneto vuol dire per voi una cosa molto grave? Sì vuol dire per noi, vuol dire per i malati che afferiscono la nostra struttura è molto grave, siamo molto stupiti che ci sia questa incertezza da parte della regione, inizialmente era una chiusura, ora è un'incertezza, questa incertezza da parte della regione perché i nostri malati vengono da tutta Italia e quindi la nostra struttura sostanzialmente non è un costo per la regione Veneto o lo è in termini piccolissimi, come fanno giustamente. Perché poi c'è il rimborso ovviamente. Certamente. Se pagassero le regioni perché c'è anche questa componente purtroppo. Sì, però abbiamo fatto i conti anche con i dirigenti diciamo regionali e in effetti non siamo un costo, quindi non si capisce qual è il motivo per cui ci sia appunto questo accanimento nei riguardi di una struttura che si occupa di malattie così dimenticate, nessuno può, né l'università di Padova, né di Verona, né tutte le università italiane, nessuno può fare tutto sulle malattie rare, si tratta di 8 mila malattie, ci sono dei modelli da implementare di ricerca, diagnosi e cura, noi siamo un modello di nicchia, non pestiamo i piedi nessuno, abbiamo avuto dei buoni risultati e quindi chiediamo di essere riconosciuti in maniera definitiva. Lo chiediamo a nome dei nostri malati ovviamente. Perché effettivamente, come abbiamo parlato prima della Leshnaian, sono pochi questi malati ma relativamente pochi perché come diceva Anna Albarello, le malattie rare sono 8 mila, quindi già la forma è molto complessa e pochi, per ognuno fa un bel numero di malati, voi tra l'altro ne seguite un bel numero di malattie. Certo, noi abbiamo dal punto di vista proprio della diagnosi molecolare, che è un'attività assolutamente complessa, anche questa è sperimentale, malattia per malattia, abbiamo implementato la diagnostica molecolare per circa 200 malattie e questo ci è costato moltissimo, uno sforzo enorme. Anche perché magari lo dico per il pubblico che forse non riesce a capire l'impatto che ha questa cosa qui, la diagnosi nel caso di malattie rare è già uno scoglio molto pesante per le famiglie che magari sbattono la testa contro 150 mila esami, prove di laboratorio, consulenze, medici senza riuscire ad arrivare nemmeno a sapere qual è la malattia che colpisce il loro familiare. E' successo a noi, infatti questo, con il nostro figlio Mauro, è successo a molti altri, sta continuamente succedendo, ci sono i viaggi della speranza presso i vari santuari medici, non dico che noi abbiamo la diagnosi per tutte le 8 mila malattie rare, però abbiamo implementato questa diagnosi molecolare nel nostro laboratorio di genetica appunto per un numero elevato e pensiamo di aver fatto un grosso lavoro, ce lo dicono in molti, ce lo riconosce anche l'Europa e il mondo, speriamo che lo riconosca anche la regione Veneto. Tra l'altro quest'anno abbiamo raccontato due buone notizie, perché c'è questa della Lash Nyan, ma ce n'è anche un'altra che riguarda un'altra delle malattie che è stata seguita dal vostro centro e che piano piano sta arrivando ad ottenere almeno dei risultati che potrebbero portare ad un farmaco anche possibilmente. Parliamo della fibromatosi desmoide. Sì, la fibromatosi desmoide aggressiva, anche questa abbiamo presentato il nostro articolo scientifico che è frutto di un lavoro dei nostri ricercatori, due anni di attività, però abbiamo portato l'individuazione, hanno portato, diciamo un risultato grande questi studi, l'individuazione di un nuovo marcatore GSK3-beta per questa malattia e quindi un nuovo marcatore rispetto a quelli noti vuol dire avere una speranza in più sia nel conoscere l'eziopatogenesi della malattia in maniera più approfondita, sia perché una volta compresi meglio i meccanismi si può pensare ad una eventuale possibile terapia. Ecco, intanto stiamo vedendo anche il volantino dell'associazione italiana Desmon, tra l'altro abbiamo avuto anche ospite la giovane donna che ha fondato questa associazione colpita ovviamente da fibromatosi desmoide, penso che chi l'ha vista quell'altra puntata se la ricorderà perché una ragazza con una determinazione, una forza grandissima nonostante abbia solito su se stessa varie mutilazioni, spesso queste malattie rare sono veramente delle malattie cattive, nel senso che se la prendono veramente tanto con questi malati. Infatti questa per esempio è grandissima, è una grandissima difficoltà ma è anche un grandissimo risultato queste hanno per esempio questa signora Paola a cui prima accennava ha avuto 50 e più interventi chirurgici l'amputazione di un arto, lei è della provincia di Vicenza ma ce ne sono della provincia di Rovigo ce ne sono di altre regioni, ce n'è una anche nella provincia di Padova per cui sono malattie veramente che sono anche presenti nel territorio bencherare. Certo, io devo fare una cosa adesso, vorrei leggere una lettera una lettera che una persona malata di una malattia piuttosto severa anche tra l'altro è seguita proprio dall'associazione Mauro Baschirotto e dalla fondazione Ebbird ha scritto al presidente Luca Zaia. Questa lettera, non si sa se è pervenuta effettivamente nelle mani del presidente Luca Zaia né tantomeno se il presidente l'abbia letta noi la vogliamo rendere pubblica perché c'era anche una data entro la quale si aspettava una risposta insomma noi cerchiamo di dare una seconda chance sostanzialmente all'autore di questa lettera un ragazzo che soffre di una malattia che si chiama Prader Willi una malattia che difficilmente rende possibile anche solo poter scrivere una lettera questo ragazzo ce l'ha fatta e comincia così Carissimo presidente Zaia, siccome lei copre con la sua illustrissima persona la carica che le è stata concessa dagli elettori per sedere nello scranno più alto della regione Veneto ho sentito l'esigenza di scriverle per sottolineare che sono Attilio, 38 anni, con la sindrome di Prader Willi che è un difetto genetico, crea problemi intellettivi, problemi respiratori, desiderio di mangiare 24 ore su 24, disabilità oltre a vari altri sintomi, troppi per descriverli tutti per restare in vita e per sentirmi una persona sana, moralmente e psicologicamente attiva frequento il centro diagnostico riabilitativo della Fondazione Baschirotto insieme ad altri adulti che hanno la mia stessa malattia, a volte in forma più grave so che volete chiuderlo, infatti la mia ASL mi ha detto che l'anno prossimo non potrò più venire perché la convenzione del centro finisce il 31 dicembre di quest'anno proprio per questo le scrivo e desidererei che lei facesse un colpo di telefono qui rompendo il muro di silenzio infatti vorrei che ci desse la possibilità di venire a curarci ancora in questo istituto fondato dai nostri genitori putativi Anna e Giuseppe Baschirotto che con passione hanno organizzato da più di 10 anni dei cicli riabilitativi dedicati alla nostra malattia dove ci seguono medici, terapisti e altri esperti se non ci facessero più, se non si facessero più sarebbe un vero dramma sarebbe come dare il peggiore veleno ai malati della mia stessa sindrome e al sottoscritto io non posso credere che lei sia insensibile a questo appello non si può sospendere un progetto così importante che ha ottenuto ottimi risultati sia nella riabilitazione che nella ricerca fatta nel laboratorio non solo per la nostra malattia ma anche per altre di cui nessuno si occupa e i malati e le famiglie sono di tutta Italia e anche del Veneto adesso a lei la parola io rimango qui al centro fino a venerdì 29 novembre e aspetto una sua telefonata anche Papa Francesco telefona a chi gli scrive spero che anche lei lo faccia con la presente le invio i più sentiti ringraziamenti e le auguro buon lavoro firmato Attilio Ciminà ecco sono parole veramente commoventi anche solo pensando che questa persona avrà faticato non poco a scrivere questa lettera perché appunto sono malattie molto severe però penso che siano arrivate al cuore speriamo che arrivino al cuore del presidente Luca Zaia e dell'equipe che si occupa ovviamente del comparto della sanità del Veneto che credo abbia ben presente il problema sì speriamo abbiano ben presente il problema anche perché diciamo per la sindrome di Prader-Willi Attilio appunto ha la sindrome di Prader-Willi e lui ce l'ha in forma lieve dal punto di vista intellettivo lui non è compromesso è compromesso dal punto di vista generale tra l'altro lo vediamo qui no? sì questo ha fatto poco più sotto lo si può anche vedere sì sì è fotografato ed è anche nel giornalino che i ragazzi fanno c'è Attilio diciamo ha una forma lieve però dal punto di vista fisico anche lui ha i sintomi classici della malattia per questa sindrome appunto stavo dicendo abbiamo ideato dei cicli riabilitativi che danno un evidente beneficio in una malattia per dei malati per i quali non ci sono cure risolutive semplicemente c'è un convivere con una forma endocrino metabolica e anche psichiatrica che crea gravissimi problemi di nuovo al paziente stesso per primo e alle famiglie perché come già ho detto in diverse occasioni oltre ad avere vari problemi anche legati alla statura allo scheletro ai legamenti e diciamo all'ipotonia queste persone, questi ragazzi hanno una ricerca incessante di cibo hanno questa necessità la ricerca continua del cibo non hanno mai il limite della sazietà e accanto a tutti gli altri problemi questo sintomo crea veramente una situazione intollerabile che li porta anche loro a comportamenti ad atteggiamenti di tipo psichiatrico le famiglie ovviamente 24 ore su 24 in casa con questi ragazzi e questi adulti diciamo a volte sono ai limiti della sopportazione ma è anche legittimo voglio dire devono essere sorvegliati costantemente e allora l'alternativa a un pensionato a una struttura psichiatrica a un qualcosa che li allontani da casa per permettere al resto della famiglia di vivere l'alternativa sono i nostri cicli riabilitativi che consentono dei periodi presso la nostra struttura di circa 3 o 4 settimane per poi rientrare in casa con un programma riabilitativo con incontri con le famiglie con continuo aggiornamento della situazione e la possibilità di avere continui un filo diretto con i nostri terapisti con i nostri medici per poter applicare anche a casa quello che noi applichiamo all'interno del centro quando sono da noi ecco Questa data del 31 dicembre incombe cosa dovrebbe succedere? Cosa potrebbe succedere? Possiamo aggiungere qualcosa a questa lettera come messaggio per il presidente Zaia? Sì, diciamo noi abbiamo avuto degli incontri a livello regionale abbiamo avuto anche delle promesse però al momento queste promesse non si concretizzano abbiamo una situazione di grande disagio delle famiglie, degli utenti e anche un grande disagio per i ricercatori e le persone che operano all'interno della struttura e per noi fondatori che ci stiamo dedicando a quest'opera gratuitamente da molti anni per poter dire una nuova parola per questi malati e per queste malattie Voi non siete scesi in piazza con i forconi diciamo così però dietro c'è un problema altrettanto grave Certo, c'è un problema grave che viene vissuto con dignità viene vissuto con profonda sofferenza però questo si sa e noi vorremmo evitare veramente, abbiamo consigliato tutti di contare nella comprensione ma soprattutto nella bontà dei nostri risultati e che possano essere valutati positivamente dalla regione così come positivamente li giudica tutto il mondo scientifico e non solo E compreso le persone che poi alla fine frequentano il centro Abbiamo una piccola pausa pubblicitaria ma poi torniamo a parlare perché ci sono anche altre malattie cose interessanti da dire tra l'altro nella seconda parte della puntata anticipo avremo i rappresentanti di alcuni dei comitati appunto della protesta dei forconi cosiddetta che in queste giornate sta facendo un po' soffrire gli automobilisti piccola pausa e poi torniamo insieme Eccoci ancora insieme con Anna Alvarello dell'Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto Fondazione Beard abbiamo parlato di tante cose questa mattina di risultati positivi che sono stati raggiunti attraverso la ricerca di una preoccupazione che attraversa sia il centro che i malati perché non c'è ancora sicurezza se questo progetto sperimentale rientrerà poi tra le linee guida normali della Regione Veneto nell'ambito della sanità e speriamo che arrivino notizie rassicuranti ma ci sono tanti altri elementi di preoccupazione perché ci sono i malati ci sono le persone che come Anna Alvarello e il suo marito Giuseppe Baschirotto hanno perso due figli e hanno dedicato tutta la loro vita a questo progetto che ha un fondo umanitario molto molto largo e generoso e ci sono anche le persone che lavorano all'interno di queste strutture che stanno vivendo in questo momento una situazione di difficoltà Certamente appunto avendo un progetto sperimentale che avrebbe dovuto essere implementato nel sistema sanitario ma che è sempre stato prorogato e adesso ultimamente con piccole proroghe non si riesce a fare una seria programmazione né per quanto riguarda l'attività né per quanto riguarda la stabilizzazione del personale perché è ovvio che nel momento che c'è una certa tranquillità sul piano delle convenzioni con la Regione e quindi di un'attività che abbia in qualche modo un riscontro anche sul piano economico allora si potrà pensare che sia stabilizzato il gruppo di ricercatori che hanno lavorato bene magari in questi che hanno dato prova di sapere veramente affrontare l'ambito delle malattie rare a livello di ricerca biomolecolare per cui diciamo è tutto collegato Tra l'altro questo vi è costato abbastanza caro non aver stabilizzato i ricercatori nel senso che c'è anche aperto un altro capitolo adesso non stiamo qui a tediare i nostri ascoltatori perché non abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale che riguarda proprio la posizione lavorativa di questi dipendenti per cui siete anche all'interno di una causa credo Sì certamente perché come in tutti gli enti di ricerca noi abbiamo arruolato dei ricercatori per i progetti per collaborazioni e anche per implementare nuovi modelli diagnostici ovviamente i contratti del personale che si occupa della ricerca biomolecolare non possono che essere dei contratti a progetto dei contratti di collaborazione proprio perché le sono legate ai possibili finanziamenti e quindi diciamo noi sosteniamo questa tesi ed è crediamo crediamo che sia quella giusta siamo più che convinti di essere sempre stati nel giusto di esserci compagni sappiamo che la giustizia italiana va piano e di aver dato del lavoro a delle persone che hanno potuto cimentarsi con tecnologie elevate con malattie diciamo complesse con approcci diciamo molecolari veramente innovativi per cui pensiamo veramente di aver fatto il meglio chiaramente se poi lo Stato italiano pretende e la ragione che si faccia ricerca che si trovano i soldi della ricerca e che nel contempo si mantenga lo stipendio dei ricercatori magari assumendo nel tempo determinato nell'incertezza appunto dei finanziamenti direi questo mi sembrerebbe un paradosso per cui immagino che alla fine della fiera ci daranno sicuramente ragione io qui ho un paio di libri che di cui vorrei mostrare almeno un attimo le copertine abbiamo parlato prima della malattia di Lesh Nayan e abbiamo detto che ci sono stati dei risultati importanti vedete che il simbolo è questa mano legata abbiamo detto che questi ragazzini purtroppo talvolta bisogna legarli perché non non si facciano del male e e adesso insomma si sta continuando a lavorare per trovare un risultato in questo ambito è uscito questo libro dei quaderni delle malattie rare che tra l'altro sono appunto una collana che pian piano si sta arricchendo di nuovi volumi di nuovi volumi e questo sicuramente è una cosa che si può che è destinato ovviamente penso una cosa un po' tecnica destinata a chi ai familiari e alle famiglie questo volumetto è uscito ancora qualche tempo fa ed è una guida sia per le famiglie sia per i medici o chi ha in carico un malato con la sindrome di Lashinaian e raccoglie tutta l'esperienza maturata dai nostri ricercatori e dal team da tutto il team anche di terapisti rispetto a questa malattia un lavoro lungo che anche questo dura parecchi anni volevo mostrare anche questo altro libro però perché questo libro invece ci porta a parlare di un'altra bella storia La speranza è un fiore di campo di Francesco Boni racconta un'esperienza di malattia ovviamente che però anche in questo caso ha un finale abbastanza positivo ed è legata alla storia della fondazione e dell'associazione ecco prima ancora di avere l'istituto io e mio marito Giuseppe abbiamo avuto idea sollecitati da alcune famiglie con ragazzini con questa bambini con la leucodistrofia metacromatica gravissima neurologica mortale in pochi anni in malattia di trovare una terapia abbiamo allora fatto uno studio individuato un centro il centro di San Raffaele di Milano dove il professor Bordignon era appena tornato dall'America dove aveva curato tentato una terapia genica di bambini con deficit di ADA e gli abbiamo proposto di affrontare questa malattia e di avviare un progetto di terapia genica sulla leucodistrofia metacromatica e lui ci ha subito detto io non conosco il sistema nervoso centrale la cura dovrebbe essere fatta lì però dice se voi mi mettete a disposizione nei fondi dei ricercatori io ci proverò e così è stato abbiamo finanziato questo progetto per 11 anni lunghi nella quale abbiamo dato dei grant a un ricercatore senior e delle borse di studio abbiamo portato messo insieme portato alla team di lavoro di ricerca il gruppo di pazienti affinché si potesse conoscere meglio la malattia a volte anche con grande difficoltà perché delle bambine calabresi per esempio di cui una molto malata le abbiamo fatto volare chiedendo alla presidenza del consiglio dei ministri gli aerei presidenziali per più volte ce li hanno concessi per più volte sono gli usi migliori che vengono fatti di queste aerei per più volte ce li hanno concessi poi abbiamo avuto un ottimo risultato nel 2001 il professor Bordignon curando il modello animale il modello animale aveva la regressione della malattia il modello animale è il topo su cui la sperimentazione deve sempre cominciare prima di passare sull'uomo a quel punto noi chiedevamo che si passasse a curare i bimbi però diciamo questo non è stato possibile perché loro non erano ancora pronti per curare l'uomo non si sentivano pronti a quel punto i bimbi morivano avevano anche necessità le altre ce ne sono un po' qua di bimbi che così li mostriamo di avere anche una diagnosi di avere della riabilitazione abbiamo così fondato l'istituto e questo progetto è stato preso in mano allora da Teleton dopo tanti anni che era stato ideato e finanziato da noi meno male perché alla fine della fiera Teleton ha messo in piedi tutta la restante parte e l'ha riconosciuto la dottoressa Pasinelli in nostro merito a un'assemblea a Milano di qualche tempo fa che se non ci fosse stato il nostro contributo così importante loro non sarebbero riusciti a curare i bimbi con la terapia genica l'articolo scientifico è apparso agosto di quest'anno su Science e sono stati curati i primi bambini e questo risultato parla anche Vicentino e molto Vicentino e noi ovviamente ne siamo contenti abbiamo però finito il tempo a nostra disposizione voglio solo mostrare visto che siamo a Natale magari come si può anche decidere di fare un aiuto a queste associazioni che si occupano appunto di persone di cui pochissimi si occupano in Italia purtroppo qui c'è un piccolo volantino per questo è per il 5 per 1000 credo sia il codice fiscale della fondazione nello spazio riservato all'associazione di volontariato per la dichiarazione dei redditi ma ci sono anche altri modi bollettini cose che si possono utilizzare anche visitando il nostro sito ok abbiamo purtroppo finito grazie a Dan Albarello alla prossima conquista allora grazie mille alla prossima conquista e alla speranza che la regione ci dia qualche segnale positivo ce ne occuperemo anche perché questa volta la lettera è stata distribuita attraverso un mezzo pubblico di informazione quindi speriamo che pervenga al presidente Zaia grazie ancora a Dan Albarello noi siamo tra pochissimo ancora insieme con i protagonisti di questa protesta che sta bloccando le strade d'Italia ne avremo due credo tra poco grazie a tutti